Il problema è quello, il pericolo è che voi dovete fare molta attenzione e che sta arrivando in questo modo anche qua. Io non so se conoscete la dieta GIFT dei fratelli speciali. E' una dieta dove si guarda le intoleranze alimentari e poi si guarda di mangiare in modo bilanciato. Io l'ho iniziato l'anno scorso seguito proprio da Dottor Speciani e sto vedendo dei grandissimi cambiamenti nel mio corpo. Pure avendo 50 anni, pure sempre in menopausa, vedo che ci sono dei cambiamenti. La prima cosa che lui chiede è di non mangiare zucchero di nessun tipo. Perciò devi guardare tutti gli elementi che mangiate e assicuratevi che non c'è zucchero. Allora io vi posso assicurare che c'è zucchero da per tutto. Una cosa incredibile. Però dicono anche che ricerpa le ore di avere o sono parte dei glicini? Com'è? Il cefalo, il medico, dice che ha bisogno di glicidi. Dove lo troviamo? Pasta, cereali? Sì, cereali, pasta. Però deve essere lavorato, quindi è il doppio lavoro per portare il glicidi sotto. Fruttose che l'ha sentito subito. Quello di cui si fa, è il zucchero pianto. Sì, è il zucchero. Quello lavorato. Allora, io mangio il prosciutto. C'è una marca di prosciutto, uno, su un banco incredibile che non ha loggio. Quella è la paga. Venti, parlano di sì. Tutti gli altri, destrosio, fruttosio, alcuni proprio con il proprio bianco dentro. Perciò, anche in Italia, l'alimentazione sta cambiando, pian piano. Io, quello che io vi consiglio è di lottare, di tenere la vostra italianità. La dieta mediterranea. Sì, intesa come era di tanti anni fa. Perché oggigiorno ci sono pochissime persone che mangiano la dieta mediterranea. Va bene? Sì. Allora, il libro è identica? Sì, grazie signora. Io volevo, a nome di tutti, ringraziare Giulia per questa serata. Penso sia stata interessante un po' per tutti. Penso che abbiamo un po' smitizzato certi luoghi comuni. Adesso magari tra di noi ne parleremo un attimo e vedremo se c'è questa possibilità, questa volontà più che altro. nel senso che, secondo me, deve essere un po' estesa a tutti i nostri compaesani, anche al paese di Mitro, che è intorno a Botteghe. Dovete sapere che quando la situazione di Rubiero è stata unica in quanto abbiamo iniziato con 72 donne, siamo arrivate in fondo al corso con una sessantina. In genere, nei corsi, 25% arriva in fondo. Perciò, se vedete 10 al primo incontro, sappiate che 2 arrivano in fondo al Botteghe. percorso. Ecco perché è molto importante iniziare con tantissime, tipo 100, tanto è gratis, venite, però dovete sapere che 25 arrivano in fondo. Perché uno, no, non posso più venire, l'altro, ah, non ho più tutto, allora ho saltato, allora non vengo più. Questa è la cosa normale. Un'altra cosa che voglio spaventare a tutti è che, sì, il conto è correre, ci sono tanti passi inizio, può essere anche il semplice camminare, il camminare veloce o comunque stare in compagnia e comunque fare un'attività fisica. Questo per me è il messaggio fondamentale, nel senso che se ci sentiamo incalciati per un eccesso di peso o cosa, inizialmente è chiaro che non ci dobbiamo aspettare più di quelli che possono essere traguardi che sono irraggiungibili in questo momento. Occorre una gradualità e una costanza. Una domanda comunque che mi hanno sempre fatto è perché ho fatto corsi per donne. E io ho sempre detto, cioè abbiamo, non potendo rifiutarmi, qualche volta ho dovuto accettare qualche uomo che insisteva di venire nel gruppo donne, ma si mettevano subito in competizione. Cioè loro dovevano essere qui a traguardo prima di tagliare il chilometro e allora... Sì, non distingue, ma anche le donne sono peggio, si mettono sempre in competizione. No, non è vero. Adesso qui abbiamo un dibattito, adesso è un dibattito. Guarda, allora senta, se stiamo insieme in tranquillità, ci alluniamo o assolutamente no? Sempre copa nostra. No, anzi, per un nuovo spesso, almeno nella mia esperienza, il fatto di essere magari superato da una donna non è accettabile. Invece io, donna, accetto di essere superato da un uomo. Siamo ringrazierati, volevamo anche infatti un presente, un fiore del cibo, ma una pianta che ha il mio di crescere. Il solito si gavano le nemose così, ma è una notata a tre. No, mi raccomando, questa è un nostro ritorno. Buonasera a tutti, spero appunto che sia stato interessante. Adesso vedremo come volgerà la fase. Grazie a tutti per aver guardato. Grazie. 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 Grazie.